E bravi furbi, rubate il pacco approfittando che uno dorme, eh? Tu se Ceccarelli non dormiva, come faceva? Ma che c'entra Ceccarelli? Ero io che dormivo. Lo sapete come si chiamano tipi come voi? Sciacalli! E adesso glielo riportate, chiedere un conto e rubare un altro, riportare, via! Avete visto che c'è? No. Così per pura curiosità. Apri un po'. Vediamo che c'è. Avanti, apri. Porca vacca! Sei tartuffo con i tocchetti di terra? Non senti la puzza? Porca Eva! Sorpole! E col geniere Ceccarelli come pensavate di cavarvela? Domattina glielo dicevamo chiaro chiaro. Bravo, così abbia un colpo. Io già lo vedo o non lo vedo. Qui non ci sono che due soluzioni. O rinunciare, o magnasse il pacco e rifarlo paro paro così com'era, con stracci e sassi. Ma dirglielo mai! Decidete voi. Qui non è l'ufficiale che vi parla, ma è l'uomo. Vogliamo mettere i voti? Io sono per papparselo. Mianca! Io voto contro. Ma siccome mi avete messo in minoranza... Andiamo a scelto.